La festa della rivoluzione. Che cos'è? E' la settimana che la città di Pescara dedica al centenario dell'impresa di fiume. Pescara ha recuperato la figura di Danunzio dopo qualche anno di abbandono e questa è una magnifica occasione per proseguire gli studi e ricordare quello che avvenne. Quindi ci sarà una grande mostra organizzata dal Vittoriale, mostra fotografica con immagine inedite del Vittoriale sull'impresa di fiume, ci saranno feste in piazza, uno spettacolo di Edoardo Silos Labini, un convegno con Claudia Salaris, autrice ricordo di alla festa della rivoluzione a proposito di fiume, con il professor Parlato, con me e soprattutto la gioia di ricordare un evento che certamente fu drammatico, certamente si concluse male, ma fu sostanzialmente una prova di amore patriottico che poi sviluppò cose molto diverse dal fascismo, anticipatrici, sia dal punto di vista costituzionale, delle libertà individuali, della democrazia. Quindi un altro modo per fare festa e inquadrare meglio la storia.